Musica Ben trovati alla terza edizione del TG6, apriamo con la politica anche questa terza edizione. A Teramo la giunta a Brucchi perde i pezzi, l'assessore lavori pubblici al traffico del comune di Teramo, Giorgio Di Giovan Giacomo ha rassegnato questa mattina le sue dimissioni rimettendo le deleghe nelle mani del sindaco. Al centro per Teramo la lista a cui fa riferimento l'ormai ex assessore ha annunciato l'uscita dalla maggioranza. Alfredo Primante La maggioranza del sindaco Maurizio Brucchi si sta sgretolando. Le dimissioni dell'assessore ai lavori pubblici al traffico, Giorgio Di Giovan Giacomo, aprono ufficialmente la crisi della maggioranza di centrodestra che sostiene il primo cittadino di Teramo perché sottese dal dissenso che arriva da lontano della lista civica a cui appartiene l'ormai ex assessore al centro per Teramo che fa riferimento a Mauro Di Dalmazio. In consiglio comunale non è ancora una questione di numeri, almeno non per il momento, ma senza dubbio una questione politica prima latente, oggi formale. Le dimissioni arrivano a seguito di una cena svoltasi ieri sera a cui hanno preso parte tutti i componenti della lista, compatti nel ribadire che il salto di qualità chiesto con la lettera del gennaio dello scorso anno non c'è stato, a partire dalla vicenda Team fino al vertice di maggioranza, definito nella nota a firma del capogruppo Puglia e di Di Giovan Giacomo un'operazione di palazzo. Al centro per Teramo, rinunciando all'assessorato, si legge nel comunicato, esce dalla maggioranza di governo che quindi adesso potrebbe avere un voto in meno con una disponibilità, recita sempre la nota, che dovrà essere conquistata con la coerenza, la serietà e la bontà delle proposte dell'attività amministrativa. Voti in meno che potrebbero essere due perché Guido Campana ha deciso di uscire dal gruppo misto per tornare nella lista che lo ha eletto proprio al centro per Teramo. Non è che abbiamo questa azione per andare col centro-sinistra, noi nell'area nostra è sempre di centro-destra, vorremmo però che tutto il centro-destra lavorasse nell'interesse esclusivo della città. Poi sta al sindaco, alla coalizione, capire come vogliono raccogliere questa nostra sollicitazione. E speriamo che questa casella che abbiamo lasciato vuota serva a soddisfare gli appetiti di quelle persone che andavano a caccia di poltrone e meriti vari. Le opposizioni intanto vanno all'attacco, sfruttando il momento di confusione all'interno del centro-destra Teramano. Per Sandro Mariani, capogruppo in regione del PD, è finita di fatto l'amministrazione Brucchi, che conti alla mano si troverebbe in questa configurazione con esattamente mezzo consiglio comunale contro, con 16 consiglieri su 32 all'opposizione. I 5 Stelle con Fabio Berardini invece si dicono pronti a portare in consiglio una mozione di sfiducia per il sindaco. E questo pomeriggio, in apertura della seduta del Consiglio Comunale di Teramo, il primo cittadino, il sindaco Maurizio Brucchi, ha ringraziato l'ormai ex assessore Giorgio Di Giovangiacomo per il lavoro svolto. Si è detto dispiaciuto, ma nonostante la situazione delicata, ha ribadito che i numeri ci sono e si va avanti. Rispondendo all'opposizione ha detto, altrimenti si torna dagli elettori, abbiamo vinto già tre volte, torneremo a vincere. E passiamo alla cronaca, è stato identificato dai carabinieri della Compagnia di Vasto, con la collaborazione dell'arma di Permoli e San Severo, il cadavere rinvenuto questa notte sull'argine del fiume Trigno, incontrata Salitti del comune di San Salvo. Si tratta di un 45enne nato a Bari e residente a San Severo. L'identificazione è stata possibile grazie, oltre al riconoscimento da parte dei familiari, ad un frammento di carta d'identità recuperata nella tasca dei suoi pantaloni dagli uomini dell'arma. Al recupero hanno partecipato i vigili del fuoco e i sanitari della medicina legale di Vasto, che da una prima ispezione del cadavere non hanno riscontrato la presenza di segni riconducibili ad una morte di tipo violenta. Nei prossimi giorni sarà comunque eseguito l'esame autoptico che stabilirà con precisione le esatte cause della morte. Il consigliere regionale di Forza Italia, Mauro Febo, contesta la nomina direttore amministrativo della ASL 2 di Sabrina Di Pietro e chiede alla Regione la revoca. Paolo Renzetti. Febo, voi contestate la nomina di una dirigente amministrativo della ASL 2 di Chieti. Perché? Perché prendiamo atto che questa dottoressa ha presentato lo stesso titolo, per cui è stata nominata solo per tre anni, quindi non ha il requisito di cinque anni, alla ASL dell'Aquila, perché non Mauro Febo o il gruppo di Forza Italia, ma perché il Tribunal dell'Aquila ha detto chiaramente che i titoli presentati non corrispondono a ciò che è richiesto. D'altronde bastava chiedere alla direzione regionale della sanità o andare su internet per scoprire che quella struttura a cui fa riferimento la dottoressa è un grande albergo per anziani, non è una struttura sociosanitaria, perché non ha l'accreditamento. Quindi voi cosa chiedete adesso? L'immediata revoca di questa nomina è, se la ASL ritiene, gli estremi di inviare queste carte all'autorità. È chiaro che se questo non dovesse avvenire agiremo noi di conseguenza. Lei diceva in conferenza stampa che non è la prima volta che accade questo. Noi diciamo che sulle nomine in generale abbiamo avuto almeno sei episodi dove io ho anticipato chi vinceva il bando o l'avviso. Quindi questo è un modo di operare che a noi non piace. Intanto perché non piace che vengano presi in giro i giovani e non vengono presi in giro i professionisti che rispondono ai bandi. Poi qualche altra volta riteniamo che sotto alcune nomine ci siano delle strategie che a noi non suscita trasparenza. Iniziata questa mattina la prima fase dei lavori di analisi volti a chiarire la natura e le caratteristiche dei materiali presenti nell'area della discarica abusiva individuata lo scorso febbraio in località Cese San Marcello a Celano, provincia di L'Aquila. Le immagini analizzate avevano permesso di individuare diversi siti precedentemente adibiti ad attività estrattive successivamente colmati totalmente o parzialmente con materiale di dubbia provenienza. In particolare i tecnici di Resgea si occuperanno di realizzare un dettagliato rilievo fotogrammetrico mediante l'utilizzo di droni per avere una precisa ricostruzione della topografia dell'area e di effettuare una serie di tomografie elettriche mirate a caratterizzare lo spessore e la natura dei materiali interrati permettendo di individuare l'eventuale presenza di corpi metallici o inquinanti. Le due indagini congiunte contribuiranno alla corretta stima delle volumetrie e la precisa ubicazione delle eventuali anomalie riscontrate. Ancora segnalazioni da parte dei comitati dei cittadini sul caso Sansificio di Pescara e sull'emissione di fumi inquinanti a rispondere il presidente della provincia che spiega tutte le attività messe in campo fino ad oggi e il risultato delle analisi effettuate. Francesca Romanatessi. Cittadini ancora in allerta sul caso dei fumi provenienti dal Sansificio di Pescara. Dopo l'allerta scattato mesi fa ancora preoccupazione per i residenti. Ad intervenire oggi è il presidente della provincia Antonio Di Marco che parla di un lavoro costante sul caso da parte della polizia provinciale che monitora costantemente le attività del caso con una procedura tuttora in corso. Per poter dire definitivamente che quell'impianto è regolare o meno abbiamo bisogno di averlo in funzione per tre giorni, mi dice il dirigente, per verificare insieme all'arta, così come è concordata appunto con l'arta, le emissioni e quindi capire se i filtri e comunque le emissioni stesse sono nocive e pertanto avviare le procedure di revoca definitiva dell'autorizzazione. Nell'attesa di questa procedura è intervenuto il Comune che dopo un giorno di attività ha ritenuto di fare l'ordinanza di chiusura, di sospensione dell'attività del Sansificio. La vicenda riguardante i cittadini che hanno segnalato eventuali attività irregolari sono sotto l'attenzione del Comandante della Poesia Provinciale Onorati che sia di giorno che di notte sta verificando, soprattutto con verifiche del tutto non programmate, se questo accade. Non è emerso per ora nulla, la situazione era regolare, gli impianti fermi non risultavano in quei momenti, da quando abbiamo fatto i primi controlli, un'attività in essere o recente diciamo. I controlli continueranno senza programmazione, sia di preventivi sia di retti, proprio per controllare che la situazione sia corretta. A Pescara non trova soluzione lo scontro tra maggioranza e opposizione sul caso dell'introduzione della tassa di soggiorno che ormai da giorni prosegue in Consiglio Comunale a tenere aperta la discussione e la destinazione d'uso dei suoi proventi. Ascoltiamo. Centinaia di emendamenti presentati dall'opposizione che continuano a tenere inchiodati sui banchi tutti gli attori del Consiglio Comunale. Non si riesce a trovare la quadra sul caso dell'introduzione della tassa di soggiorno, presentata dall'amministrazione comunale come un provente utile per offrire più servizi attrattive sul territorio, dedicate al comparto turistico, offrendo così un'occasione importante di rilancio. Noi ci saremmo aspettati un contributo di idee che in quegli emendamenti non si evince. L'opposizione da prima ci ha chiesto di modificare alcune cose della delibera, come prima non andava bene il piano marketing, poi ci hanno chiesto un calendario degli eventi precisi, noi abbiamo fornito tutte queste piegazioni, e poi ha cambiato rotta dicendo che questo contributo non andava speso, andava messo nell'avanzo di bilancio, fino anche a proporre che questo contributo doveva servire per sgravare alcune cose riguardo la cosa, la tassa dell'occupazione di suolo pubblico. Dall'altra parte l'opposizione aveva chiesto di destinare quei proventi alle casse comunali che di certo non navigano nell'oro, e qui avevano incontrato la protesta di federalberghi. La tassa di soggiorno è stata concepita per avere un piccolo introito destinato ai turisti e prevede esenzioni e limiti di tempo per un costo massimo di 7 euro a persona. Il regolamento è molto preciso, costerà 1 euro per pernottamento, e poi ci sono delle varie esenzioni, comunque sarà introitata fino a un massimo di 7 giorni, poi ci sono delle esenzioni per quanto riguarda i bambini fino al 10 anno di età e per quanto riguarda gli anziani dal 68esimo anno di età. Un regolamento molto preciso e attento, è una delle uniche città italiane che ha ancorato questo contributo di scopo, quindi questa tassa di soggiorno, alla redazione di un piano marketing fatto con tutti gli attori protagonisti. L'assessore regionale alla sanità Silvio Paolucci ha visitato questa mattina l'Istituto di Riabilitazione Santa Caterina di Francavilla al Mare rassicurando sul futuro della struttura e dei lavoratori. Ascoltiamo. L'assessore Paolucci oggi visita l'Istituto Santa Caterina anche per tranquillizzare i lavoratori su questa chiusura paventata che però non ci sarà. Con il decreto sulla riconversione ha recepito le istanze dei cambiamenti della modifica dei setting assistenziali, dell'estensione dei setting assistenziali che pur erano stati richiesti e pertanto un futuro è già certo con la riconversione. Inoltre c'è un tema di rassicurazione sulle modalità e la tempestività dei pagamenti e lì la ASL ritengo si stia attrezzando. C'è un ulteriore tema che andremo tutti insieme oggi a verificare che riguarda qualche altro servizio che non essendo previsto esattamente tra i LEA richiede una sua soluzione un po' più complessa ma ad ogni modo è un'importante struttura che rende un importante servizio e che la Regione intende attenzionare, assecondare come è giusto che sia. Un istituto importante che dunque la Regione vuole in un certo senso rilanciare? Assolutamente sì, nel percorso di quella parola che si chiama riconversione altro non è e abbiamo previsto per l'appunto una modifica dell'offerta residenziale che è sostanzialmente avallata sia dalla struttura e ovviamente anche dalla comunità dei pazienti che usufruiscono della struttura. I giorni scorsi c'era stato anche un contatto con la ASL di Chieti? Anche in questo senso e in tal senso i pagamenti si sono accelerati ma debbono essere in grado le strutture della ASL di verificare, controllare però allo stesso tempo essere molto tempestive sui pagamenti. A più di due anni dai fatti di cronaca che causarono la chiusura del sottopasso di Fontanelle a Pescara l'amministrazione comunale annuncia la sua riapertura dopo i lavori di adeguamento. L'amministrazione comunale di Pescara annuncia la riapertura del sottopasso di Fontanelle quello in cui nel dicembre 2013 perse la vita Anna Maria Mancini rimasta intrappolata all'interno della sua auto in vasa dall'acqua. Il primo pensiero di sindaco e vice sindaco va proprio alla sua memoria e al dolore della sua famiglia. Evento particolarmente, come dire, tragico poiché portò alla morte della signora Anna Maria Mancini alla quale va a lei e ai suoi familiari il nostro deferente ossegue per quello che è accaduto. Ci sono voluti due anni perché le procedure tra ente comunale e procura si sono dovute di sbrigare in una serie di attività preparatorie interlocutorie per poter procedere il più speditamente possibile. Quasi due anni di attesa per la riapertura complicata dal sequestro preventivo effettuato dall'autorità giudiziaria. Un lavoro che oggi si conclude con la messa in sicurezza grazie all'introduzione di nuove componenti tecnologiche capaci di segnalare a tutti gli automobilisti l'allerta in caso di allagamento. Oggi consegniamo alla città e non solo a quella zona un sottopasso con un impianto di sollevamento nuovo con una nuova linea di smaltimento che non va più in una condotta fognaria ma va in un fosso di trasporto di acque bianche e quindi non graverà neanche più sul depuratore in caso di sovraccarico. Ci sarà un nuovo impianto per quanto riguarda l'aspetto della continuità energetica in modo che in caso di mancanza di corrente elettrica ci sarà un gruppo di continuità. Inoltre c'è un impianto di allerta semaforico e tabellare che dirà sottopasso allagato quando ricorreranno le condizioni che ormai speriamo non ci dovranno più essere. Il sindaco di Francavilla Antonio Luciani parla della fine dei lavori al depuratore di Fosso Pretaro e dell'imminente stagione balneare. Ascoltiamolo. Sindaco, proprio ieri si sono conclusi i lavori a Fosso Pretaro lavori importanti in vista della stagione balneare. Sì, lavori importantissimi che avevamo sollecitato anche prima della stagione balneare scorsa che finalmente l'ACA si è decisa a fare. Siamo molto contenti di questo. È stato riparato lo scarico a mare del depuratore Pretaro e fra pochi giorni, io penso domani, inizieranno i lavori al Fosso San Lorenzo quindi nella zona sud. In sostanza nelle due zone dove abbiamo avuto qualche problema la scorsa stagione quest'anno l'ACA interviene con lavori pesanti, costosi ma che erano indispensabili. E un altro pezzo dell'operazione che abbiamo chiamato mare limpido non è la definitiva risoluzione di tutti i problemi però stiamo andando veramente sulla strada giusta. A poche settimane dall'inizio della stagione estiva si può dire o no se ci saranno divieti ed eventualmente dove? Intanto su Francavilla non rientra tra quei comuni che hanno purtroppo in Abruzzo dei divieti permanenti di balneazione. In Francavilla non abbiamo nessuno di questi problemi. Abbiamo avuto l'anno scorso problemi appunto al depuratore Pretaro e al depuratore Foro Fosso San Lorenzo. Quest'anno contiamo di non averli e contiamo di avere 7 km di spiaggia balneabile. Cambiamo argomento. Offrire un'offerta formativa più specializzata e di grande valore economico. L'Istituto Alberghiero Filippo De Cecco di Pescara presenta il corso di alta formazione dedicato all'arte pasticcera che si svolgerà in collaborazione del COMPAIT, la Confederazione Italiana dei Pasticceri. Vediamo. Si parla di un nuovo progetto formativo per l'Ipsar De Cecco. Vengono coinvolti gli insegnanti e si parla di un nuovo progetto sulla formazione. Noi dall'anno prossimo vogliamo ampliare l'offerta formativa del nostro istituto istituendo un corso di formazione con riferimento all'arte bianca e specificamente alla pasticceria e alla dolciaria. Dal momento che su questo tipo di formazione abbiamo ricevuto molte richieste dagli studenti ma soprattutto perché la pasticceria professionale crea occupazione. La COMPAIT, Confederazione Italiana dei Pasticceri, ci fornirà risorse, ci fornirà esperienze e ci fornirà le competenze professionali dei professionisti pasticceri. Cosa succederà di diverso da quello che oggi è l'offerta formativa? È il primo progetto formativo affidato a un ente pubblico. Per assurdo, in un contesto italiano dove il brand made in Italy è riconosciuto non solo in Italia ma in tutto il mondo, la scuola pubblica non insegna pasticceria. Con questo progetto abbiamo voluto, con la scuola berghiera di Pescara come scuola capofila, iniziare questa grande avventura che poi verrà a macchia d'olio sparsa su tutto il territorio nazionale. E tra gli eventi, 300 chilometri in pellegrinaggio da città del Vaticano fino a Manoppello. Dal 3 al 14 maggio si svolgerà la seconda edizione del Cammino del Volto Santo. Vediamo. L'ambizione è quella di ottenere il successo del Cammino di Santiago di Compostela, simbolo della religiosità riconosciuta in discusso. L'Abruzzo nel suo secondo anno riceverà i pellegrini che da città del Vaticano percorreranno 300 chilometri e dopo 12 tappe all'interno di strutture messe a disposizione dai comuni aderenti giungeranno al santuario del Volto Santo di Manoppello. Questa grande iniziativa che investe il Lazio e il nostro Abruzzo va nella direzione di valorizzare tutta una serie di strutture religiose, strutture culturali e soprattutto questo bellissimo territorio che è l'area interna della nostra regione. Secondo me nei prossimi anni se ne parlerà veramente bene e potrebbe essere quasi alla pari del Cammino di Santiago di Compostela. A sottolineare la valenza turistico-religiosa di questo percorso spirituale istituito dalla regione Abruzzo c'è il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo che sottolinea come nell'anno del Giubileo particolare importanza sia stata data ai pellegrinaggi oggi considerati come turismo slow. Noi come a livello statale abbiamo per volontà del Ministro indetto il 2016 come anno nazionale dei cammini. Il tema che noi abbiamo davanti è che questi percorsi debbano essere anche un vero raggiunto per i territori. L'Abruzzo è un territorio ricco di aree interne che magari hanno una sofferenza maggiore rispetto al turismo costiero e invece attraverso questo turismo slow che tra l'altro il Ministro lo vede come un turismo legato anche ai percorsi quindi dalla bicicletta al cavallo. Poi avete un altro elemento interessante che è quello dei treni storici che possono comunque abbinarsi anche al tema dei cammini e noi come Ministero abbiamo stipulato una convenzione proprio con la Fondazione Ferrovia dello Stato che è quella che promuove per dire il bellissimo treno, la transiberiana dell'Appennino che è quello da Sulmona ad Isernia. Bella iniziativa del Comune di Pineto che facendo seguito ad una legge nazionale non vincolante per i piccoli comuni ha deciso di piantumare un albero per ogni nato nella cittadina terramana. Ascoltiamo nel servizio l'assessore all'ambiente del Comune. Iniziativa volontaria perché la legge nazionale prevede che i comuni oltre i 15.000 abitanti abbiano l'obbligo di fare delle piantumazioni annuali corrispondenti ai nominati. Noi scegliamo volontariamente di farlo per diversi motivi perché Pineto ha un nome che già caratterizza quello che è il suo patrimonio principale e la nostra ricchezza è sicuramente il verde e quindi scegliamo a partire da quest'anno di piantumare ogni anno un numero pari a circa 100-120 alberi annuale che corrisponde alla media dei nuovi nati e simbolicamente festeggeremo ogni anno il 30 maggio queste piantumazioni facendo una piantumazione simbolica alla presenza del primo bimbo nato dell'anno perché abbiamo istituito questa giornata che vuole essere il compleanno di Pineto in quanto il nome è stato acquisito con una delibera che risale al 30 maggio del 1930 dopodiché le altre piantumazioni verranno fatte in autunno che è il periodo magari più ideale in terreni che sono stati già censiti e quindi saranno destinati alle nuove piantumazioni. Ed ora passiamo alla pagina sportiva sono stati designati gli arbitri per la quindicesima giornata di ritorno di Serie B l'anticipo Pescara-Cesena sarà diretta da Pasqua di Tivoli Latina-Lanciano è stata affidata invece a Chiffi di Padova e anche domani sera contro il Cesena si presenterà in campo un Pescara incerottato al rientro Torreira e Zuparic con Caprari e Zampano in dubbio ascoltiamo ora nel servizio il tecnico Massimo Ondo Tutti i problemi che abbiamo non sono problemi muscolari non sono dovuti a qualcosa in particolare sono tutti problemi o articolari tranne a Ressi che aveva una piccola cicatrice a calciato ha avuto una piccola elongazione ma non sono problemi muscolari anche quello di Zampano non dovrebbe essere un problema che aumenta se ci gioca il problema è che se ha male non riesce a calciare è una partita importantissima come lo sono tutte è ovvio che giochi in casa uno sconto diretto con una formazione che ha i tuoi stessi punti vincere vuol dire andare sopra di tre punti vincere bene vuol dire andare sopra di quattro punti indirettamente, avete capito il senso e quindi è una partita per noi fondamentale in questo momento fare tabelle veramente non ha senso dobbiamo pensare partita dopo partita adesso c'è quella di domani e non possiamo fare calcoli su quello che succederà quella dopo dobbiamo andare in campo e provare a vincere questa partita adesso abbiamo scoperto Vitturini e Vento abbiamo risolto i nostri problemi non è così non è così è un ragazzo affidabile Vento è un ragazzo affidabile che lo ha dimostrato ma è sempre un ragazzo a 97 che ha fatto una partita di solito l'esperienza mi insegna che il problema non è tanto la prima partita ma sono quelle dopo non sto dicendo che non possa essere della partita perché è uno di quelli che potrebbe giocare ma non è così scontato che possa tornare in campo perché devo fare delle valutazioni per le quali anche Fornasia può essere considerato una buona opportunità e presentate questa sera all'Aurum dal presidente del Pescara Daniele Sebastiani le iniziative per gli 80 anni della società bianca azzurra ha mostrato anche la maglia celebrativa che verrà indossata dai giocatori nella gara di campionato col Brescia del 23 aprile il servizio Presidente Sebastiani 80 anni di Pescara Calcio tanti eventi per festeggiare davvero questo traguardo così ambizioso così importante 80 anni sono tanti io sono orgoglioso di essere oggi il presidente che festeggia i primi 80 anni nel Pescara è chiaro che faremo diverse iniziative poi il nostro gruppo di lavoro dal marketing all'addetto stampa tutti quelli che lavorano per il Pescara stanno facendo tante belle iniziative che poi vedremo da qui ai prossimi mesi tra le iniziative più importanti una mostra fotografica sulla storia del Pescara e poi questa sera avete svelato la maglia celebrativa che verrà indossata dai giocatori del Pescara nella partita con il Brescia sì però questa sera appunto presenteremo anche la maglia che utilizzeremo nella partita col Brescia perché è chiaro che sarà una maglia anche in ricordo di un grande del Pescara del passato che è stato con noi fino a poco tempo fa che è Vincenzo Zucchini tanti regali per i tifosi ma il regalo più bello sarà quello del piazzamento playoff per festeggiare degnamente questi 80 anni speriamo di fare appunto questo regalo che sicuramente per i tifosi è quello più bello va bene festeggiare, va bene ricordare gli 80 anni ma se riusciamo a farlo con un bel piazzamento nei playoff magari con una ciliegina sulla torta sarebbe il massimo scendiamo in Lega Pro chiudere in maniera positiva la stagione questo l'obiettivo dei biancorossi che affronteranno domenica al Bonolis la lucchese di Galderisi a quattro giornate dal termine della stagione ascoltiamo Petrella dopo comunque un mese un pochino di sofferenza con pochi allenamenti, pochi minuti comunque alla fine la gamba ha risposto bene era quello l'importante io ancora non sto al 100% però comunque sto arrivando a quella forma che avevo prima dell'infortunio noi siamo una squadra forte che comunque può rimettere in piedi era anche una partita malissima però ci sono quei problemi che comunque ci fanno prendere gol che ne so, danno spazio alle scuole avversarie che ci hanno caratterizzato per tutta la stagione non ci hanno fatto fare il campionato che comunque eravamo partiti per fare il contratto dice che ho altri due anni quindi sono a tutti gli effetti un giocatore del Teramo dopo se quest'estate arriverà la possibilità di fare il salto di categoria benvenga però per adesso sono contento e contentissimo di essere un giocatore del Teramo tutte le settimane ci alleniamo per raggiungere la vittoria è chiaro che ormai siamo un pochino nel limbo quindi giocheremo solo per la maglia per un fatto personale dopo comunque quello che ci è successo l'anno scorso quindi vedere una squadra arrivare qui che festeggia sarebbe anche una beffa oltre al danno anche la beffa però è chiaro che se vinceranno il campionato complimenti a loro perché vuol dire che l'hanno meritato Passiamo al ciclismo col paccio della meridiana Kamen arriva Matteo Rabottini lo scalatore abruzzese scontato il periodo di squalifica tornerà alle competizioni sotto la guida di Antonio e Mariano Giallorenzo una scelta importante quella fatta dalla maglia azzurra al Giro d'Italia 2012 fermato per una positività all'epo il 7 agosto 2014 il suo debutto con la nuova maglia è previsto per il mese di maggio quando dovrà accogliere appieno questa seconda chance in una squadra molto competitiva per il calendario continental nella quale cercare di ritrovare risultati e credibilità che possano aprirgli nuove porte più importanti ed è tutto per oggi grazie per l'attenzione e buonanotte grazie per la visione